Musica Fanno testo, soprattutto su questa questione della trasformazione della Costituzione materiale. Io ho scritto un libro, si chiama L'inverno di Monti, dove spiego che Monti agisce come il dittato romano. Durò fino a quando Silla, nell'82 a.C. si accorgse che era un'invenzione dell'oligarchia e lo abolì. Non c'è mai stato in Europa, dopo il secondo dopoguerra, un evento come il nostro, per cui un governo non sfiduciato dal Parlamento. Il pensiero unico è che il problema sia il debito pubblico. Il pensiero invece è fondamentale, giusto, che questo governo tecnico fatto di economisti, francamente che non hanno mai scritto un libro, e con la teoria economica hanno poca dimestichezza, su questo bisogna dirlo, perché io contesto che siano dei tecnici, basta guardare cosa hanno fatto dal punto di vista gius lavoristico sull'articolo 18, ma vengo a prima. E' completamente pazzesca la politica che si sta conducendo, perché in un momento di recessione e di depressione incipiente, fare una politica di austerità come quella che si sta facendo con le imprese che pagano il 70% di tasse, vuol dire ammazzare il sistema industriale. Poi si sta creando ad arte un clima di preoccupazione, il default, lo spread. Questo l'abbiamo già sentito all'inizio degli anni 90, amici cari. All'inizio e davanti, anche lì, dei governatori centrali di scarsa capacità tecnica, consegnarono i gioielli della corona, ricordo la nuova pignone, la siderurgia ciclointegrale, la chimica etilenica, a prezzi di sconto, fecero le privatizzazioni senza liberalizzazioni, ma almeno c'era un po' di controllo parlamentare. Adesso non c'è neanche più questo. Adesso ci si prepara a svendere quel poco che rimane delle nostre grandi industrie, col fatto che bisogna fare in fretta, che lo spread... Ma che cosa c'entra lo spread con la crescita economica? Ma questi signori non hanno mai letto Keynes, non hanno mai letto Minsky, non sanno da dove comincia la teoria economica, non lo sanno. Per fortuna che c'è una tendenza ancora, e Draghi è stato allievo di Federico Caffè, non ha certo fatto università di serie B e quindi ha una formazione teorica un po' diversa e capisce che oggi è l'ora delle politiche keynesiane, non nelle politiche dell'austerità. Questi si stanno buttando in un buco nero. Quindi trovo assurdo che dei partiti che hanno ancora una base di massa posso capire che si debba appoggiare tecnicamente un governo che ha sospeso la democrazia. Oggi non sappiamo bene chi comanda in Italia, perché non comanda il Parlamento, comanda il Presidente della Repubblica. Sospeso la democrazia, mi sembra proprio sospeso. Onorevole Bianco, per godesia mi lasci finire. Mi lasci finire, lei ha avuto tutto il tempo di dire delle banalità assurde. Grazie, la ringrazio. Delle banalità assurde, che sono veramente una prova che, devo dire, capisco perché gli italiani non votano più quando si sostengono delle cose di questo tipo, quando si ha una base popolare. Lei ha un grande rispetto delle opinioni degli altri, è un vero democratico. Dica una parola contro l'attacco terribile che è stato portato dal Presidente della Repubblica in questi giorni da parte della magistratura, per esempio. Io difendo il Presidente della Repubblica, totalmente. Questi sono i problemi che stabilizzano il sistema istituzionale, non lo spread e non la questione della legge elettorale. Guardi che in Spagna hanno vinto le elezioni, c'è un governo fortissimo, ma non ha influito assolutamente sulla situazione. Addirittura, mi scusi professore, addirittura ho letto che gli spagnoli si augurerebbero un governo tecnico come quello italiano. Ho letto che gli spagnoli vorrebbero un governo tecnico come quello italiano. L'importante è che i tecnici siano intelligenti, amico mio. Perché ci sono i tecnici che non sanno fare i tecnici, come i politici che non sanno fare i politici. Un tempo avevamo dei politici che erano anche tecnici. No, però le devo chiedere una cosa, scusi professore, sulla scia di quello che lei sta dicendo. Mi dice in tre punti qual è la sua ricetta? La mia ricetta è molto semplice, quella che abbiamo applicato in Europa dopo il 1945 col piano Marcia. Siamo in un sistema di economia aperta, non vi dubbio. Bisogna, uno, riformare lo statuto della Banca Centrale Europea. Costringere i tedeschi a trasformare la BCE in una Federal Reserve. I padri costituenti e coloro che fecero la Federal Reserve sapevano benissimo che il tasso di crescita della Louisiana sarebbe stato sempre inferiore a quello dell'Illinois. E quindi gli diedo la possibilità di fare una politica non solo per la stabilità ma anche per la crescita. Da noi non si può fare. Bisogna che la Germania si convinca. Perché se è cresciuta, è cresciuta anche con gli aiuti nordamericani e con i finanziamenti che attraverso la comunità economica europea tutti i paesi, anche quelli che loro guardano con disdegno, hanno dato anche all'economia tedesca. Che naturalmente ha però una produttività del lavoro più elevata della nostra, una coesione sociale più elevata della nostra. Su questo non c'è nessun dubbio. Secondo punto, bisogna ridare, bisogna creare gli Stati Uniti d'Europa. Ma lei lo sa che il Parlamento europeo un mese fa ha votato una mozione bipartisan con la maggioranza del PPE e del Partito Socialista europeo che chiedeva la riforma della BCE e la Commissione europea composta da commissari non eletti ma nominati e da ambasciatori ha rifiutato addirittura di metterla in discussione. Quindi invece di parlare di unioni bancari che non servono assolutamente a niente, bisogna finalmente creare un'unione politica. E poi bisogna ritornare alla politica vera, alta, non di quelli che vivono di luoghi comuni come questi che il problema è il debito pubblico. Il problema è la crescita economica. L'oligopolio finanziario mondiale colpisce e tosa le pecore dei paesi che non hanno crescita. Quindi in questo io dicevo che questo governo passerà alla storia perché distruggerà l'industria manifatturiera. perché fa di tutto. Guardi come si è comportato col terremoto. Io ho visto la gente che faceva in mezzo ai cortili delle aree sterile per continuare a fare le macchine per la dialisi perché serviamo 30.000 malati ma non gli hanno neanche dato un aiuto. Questo è un governo crudele, non è un governo di tecnici. È un governo di incompetenti e di crudeli. Ve lo volete tenere? Continuate ad andare avanti e parlate di sciocchezze come la riforma elettorale, eccetera. Bisogna invece fare una politica economica per la crescita e per lo sviluppo e finirla con questa storia dell'autarity che non ha nessun senso. Ci porta solo in un barato. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.